In vista del Natale, lei pensa di chiedere un comitato per valutare misure di sicurezza a Napoli diverse da quelle che sono già in campo? No, innanzitutto esprimo la solidarietà mia personale di tutta la città e il cordoglio per il gravissimo attentato che si è consumato nella giornata di ieri, una città a cui sono tra l'altro molto legato, che è Strasburgo, ho vissuto per circa due anni prima di fare il sindaco di Napoli. Tra l'altro città a sede anche insieme a Bruxelles del Parlamento europeo e quindi una sede strategicamente e simbolicamente significativa della nostra Europa. Non c'è nessun elemento che ci faccia ritenere di modificare quelli che sono gli ordinari piani cittadini, poi questa è una materia che compete allo Stato, quindi è lo Stato che ha gli indicatori per comprendere se ci sono particolari elementi di criticità in Italia. Io personalmente non ho nessun indicatore di questo tipo.